Il rifugio nasce dalla necessità di creare un punto di riferimento per tutti i turisti che frequentano la zona di Filettino e che fino ad oggi non avevano la possibilità di pernottare o di svolgere in maniera organizzata attività sportive, ricreative e culturali. Il sogno che abbiamo è far crescere la zona di Camposati perché pensiamo che queste montagne, questi luoghi siano piene di attrattive. Quindi abbiamo fatto subito la convenzione con il CAI per dedicare la sala al primo presidente del CAI di Colleferro. Lo scopo della nostra associazione è proprio quello di far vivere la montagna a 360 gradi organizzando tutto l'anno, caspolate, corsi di avvicinamento al vino, arrampicata, yoga e tutte le iniziative che servono a far conoscere il nostro territorio. Attraverso il rifugio quindi si può anche scegliere di dormire e di ristorarsi in ogni giorno dell'anno. Grazie a tutti!